Professoressa Elena Bargagli, si tiene il 27 febbraio la giornata regionale delle malattie rare. Quali saranno i focus del suo intervento e di questo evento che si tiene a Firenze? Innanzitutto rappresenterò la nostra azienda in occasione di quella che è una delle giornate più importanti perché si occupa di malattie rare e parlerò non soltanto del nostro ambito specifico, essendo noi coordinatori delle malattie rare respiratorie, ma delle progettualità di ricerca e dei fondi PNRR che fortunatamente sono stati legati anche all'ambito di ricerca nella diagnostica delle malattie rare. Quindi il mio intervento sarà quasi un po' un'avanguardia di quelle che saranno le progettualità del PNRR sulle nuove metodiche diagnostiche per le malattie rare. Saranno tanti professionisti provenienti da tutta la Toscana che si alterneranno sul parco dei relatori. Quanto è importante fare rete, sinergie, frasi un po' abusate, che però per questi particolari tipi di patologie sono quanto mai essenziali. Assolutamente, abbiamo anche dovuto dimostrare un network efficace, efficiente anche a livello europeo. Siamo stati appena oggi, abbiamo concluso, insomma il percorso di accreditamento audit europeo per le malattie rare e quindi abbiamo dovuto dimostrare come ci muoviamo e come collaboriamo in rete, non solo nell'assistenza ma anche nella ricerca. E quindi come il nostro network non solo raggiunga la regione toscana ma fuoriesca dalla nostra regione in un network nazionale per le malattie rare che fortunatamente trova nel nostro paese una grande risposta. Professoressa Alessandra Renieri, direttrice di genetica medica all'azienda ospedale dell'Università Sienese, ma qui parliamo anche del suo ruolo di responsabile del centro di coordinamento malattie rare, malformazioni congenite e disabilità intellettive. Anche lei sarà presente alla giornata regionale sulle malattie rare, quali saranno i focus del suo intervento? Sì, grazie, buonasera, grazie della domanda. Diciamo che questa giornata è dedicata ai progetti di ricerca e al finanziamento ottenuto attraverso il PNRR. Sono almeno cinque progetti di ricerca in cui siamo stati coinvolti, impegnati, ci vedono impegnati. Il primo è Genera, che riguarda le malattie complesse, quindi la genetica delle malattie complesse, da quelle neurologiche a quelle cardiovascolari. E quindi si prefigge di fare un database a livello nazionale di questo tipo di malattie con un sequenziamento massivo del DNA attraverso la nostra piattaforma che abbiamo acquisito già nel 2019, la NovaSic 6000. Il secondo si chiama Innova, che è più sul versante dell'affinamento tecnologico. Ancora abbiamo un progetto Anticipated, di cui abbiamo anche parlato recentemente, sulla sindrome di Rett, che utilizza anche l'intelligenza artificiale per identificare nei bambini piccoli dei movimenti che sono premonitori della diagnosi. Il progetto The Ecosystem, che riguarda vari argomenti, tra cui anche Covid-19, il versante della genetica dell'ospite, come si può predire attraverso la genetica dell'ospite chi aveva Covid grave, quindi eventualmente utilizzabile anche su fronti di prevenzione e prioritizzazione dei vaccini. E infine il Centro Nazionale di Terapia Genica e Farmaci d'RNA, in cui noi siamo coinvolti sul versante estremamente innovativo della terapia genica, che è gene editing. Come probabilmente ormai la popolazione sa, sono ormai cinque i farmaci che sono stati approvati per la terapia genica, questi sono tutti i farmaci da gene replacement, vuol dire introdurre di nuovo tutto il gene nell'organismo, sono terapie one shot risolutive per tutta la vita. La parte più avanzata della terapia genica è invece quello di andare a sostituire la sequenza nel gene nativo, quindi non si va ad aggiungere un gene, che sarebbe sotto un controllo non naturale, ma si va direttamente a ripristinare la sequenza normale. Quindi questa è la parte di cui ci interesseremo noi, tra l'altro anche a livello normativo io faccio parte del comitato CAT, di EMA, cioè dell'Agenzia Europea del Farmaco, e già lì si stanno facendo riunioni, la prossima sarà a Rotterdam, il mese prossimo, per coprire la parte dell'autorizzativa di questi nuovi tipi di terapie basate proprio su gene editing, c'è chi lo chiama anche genome editing, sono due sinonimi. Il nostro impegno sulle malattie rare si evidenzia anche dalla partecipazione alle reti di eccellenze europee, le cosiddette European Reference Network o ERN, di cui appunto una di queste è proprio Itaca, quella dedicata appunto alla disabilità intellettiva, le malformazioni congenite e la telemedicina, per la quale avremo anche una site visit della Commissione Europea il 6 di aprile, il prossimo 6 di aprile, quindi ci permetterà anche di far vedere appunto come lavoriamo, qual è il nostro centro di eccellenza, quindi della struttura della genetica medica e nell'ambito appunto dell'azienda ospedaliera universitaria sinesse. Grazie.